San Luca, nato ad Antiochia in Siria, pagano di religione, esercitava la professione di medico e coltivava la pittura e la letteratura. Avrebbe dipinto nella casa di Nazareth, sul legno del tavolo dove la Vergine pregava, il primo ritratto della Madonna. Secondo la tradizione, quel ritratto corrisponde alla Madonna nera che si venera a Cestocova, in Polonia, e proviene da Costantinopoli. È l'autore del Terzo Vangelo e degli Atti degli Apostoli, dell'infanzia di Gesù e narra episodi della vita della Madonna. Morì nelle carceri romane e il suo corpo nel IV secolo è stato portato da Costantinopoli a Padova, nell'abbazia di Santa Giustina. Patrono dei medici, dei notai e dei rilegatori di libri, è protettore degli artisti e dei pittori.